un chiaro ragazzo entra madonna mia ma chi sta san marzo? ma è scema è pi 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 gesù gesù pi ma non credo che ha qualche bambino a casa gesù giuseppe e maria pi 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 vai filippo se ne vassi ma chi è sta dormendo quello? basta 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 signora basta basta attento filippo levati levati stanno lanciando vasi dal balcone mamma mia una signora dal terzo piano dietro 500 dietro 591 no ma è pazza si si stiamo cercando di togliere tutto ma sta facendo la pazza è nuda sul balcone è dal terzo piano si è nuda dal balcone sta tirando tutto no 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 stiamo cercando di fermare tutti ma stiamo attento che sta facendo la pazza oh gesù ma via ma via signora si togata baciami Antonio levati ma la taglia sta stronza mamma mia ma perché non ci ha ammazzato sola Antonio aspetta ma questa si matta oh entra levati mi chiamai mi chiamai se ne arrivano gesù giuseppe e maria ma questa è scemonita allora ma sarà straniera ma stia 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 ma ma renditi conto ma la tua macchina dov'è Melania? no ma io ma ora ma ora ma il terbo che tu stia in grano si senti mi chiamai ma ti mi chiamai ma renditi conto ma tu se renditi conto salvatore via ma che sono i suoi figli? già se l'hai portato, suo marito se l'hai portato stamattina ma perché? per vedere un bollissotto ci vuole io? per vedere un bollissotto ci vuole vi ho chiamati, un'ora che vi ho chiamati e non è che la sua canela porta Filippo Gesù no ma è assurdo madonna, è assurdo signora, signora, glielo sta preparando aspetti un attimo, non è sandos glielo sta mettendo dell'aurobide per il cane basta che è buono ma che sono? ti fai aspettare? oi la miele, basta basta, non mi prendi più e cosa hai fatto per mio figlio? buttate tanti già non sai fare la pizza è pazza allora